Maglie ufficiali della Virtus Lanciano sulle spalle, scarpette chiodate ai piedi, gli ultimi consigli di Capitan Mammarella e poi il calcio d'inizio alla gara. Il campetto in terra battuta della casa circondariale di Lanciano per un giorno è stato uno stadio di Serie B per l'iniziativa voluta dalla Lega della Cadetteria che sta sostenendo, assieme alle squadre che militano nel campionato, l'associazione Bambini Senza Sbarre Onlus per dare diritto ai ragazzi di essere figli anche se il proprio genitore sta pagando il suo debito con la giustizia. Sono stati tanti infatti i bambini a bordo campo che hanno visto il loro papà giocare a calcio, un momento in cui barriere e muri sono crollati. Maria Lucia Avantaggiati, direttore della casa circondariale di Lanciano. Creiamo una serie di opportunità per i nostri ospiti, per i detenuti, di reinserimento sociale, allo scopo appunto di farli rientrare in società con delle opportunità di riflessione in più. Un'iniziativa credo bella che la Lega ha voluto comunque condividere con noi ragazzi e credo che non ci sia modo migliore per queste persone che comunque magari attraversano un momento difficile della loro vita, avere comunque accanto e dare la possibilità ai propri figli di comunque di fargli vedere che nelle difficoltà comunque riescono a vivere una vita dignitosa. Penso comunque sia un'iniziativa importante aggregare i bambini e i loro genitori e farli ritrovare, dargli serenità comunque e far vedere che i genitori siano bene. Poi per noi è sempre un piacere venire a trovare questi ragazzi e comunque secondo me la loro vita meritano un'altra opportunità che bene o male meritano tutti delle opportunità nella vita.